ok buongiorno a tutti i ragazzi sono tornato per il terzo e ultimo episodio di The Sacrifice oggi sono qui sempre con il nostro caro Reiki che ci racconta la storia di Papa Geno allora Reiki vieni a sederti per raccontarci la storia come la nonna questo qua lo taglio si si abbassa allora si parla era il lanciano 1970 no scherzo era più o meno una settimana fa eravamo durante l'ora di musica e praticamente dato che eravamo libri ce li siamo fatti preferiti ad un'altra classe alla fine del libro abbiamo trovato un foglietto con uno spartito che si chiamava tipo la musica di Papa Geno quindicesimo o quinto non so e allora abbiamo deciso di rifarlo e praticamente questa cosa stava in un che cazzo stai facendo e comunque stava in una specie di bustina quindi è stato scritto TVB by Martia un nome del genere e quindi noi abbiamo deciso di rifarlo abbiamo cominciato a cambiare il nome da Papa Geno quinto a Papa Genio quinto e poi abbiamo pure rifato la copertina mettendo tanto del link del canale del capo bastone e poi TVB by Capo Bastone abbiamo scritto abbiamo cancellato quel mano così e poi abbiamo messo di tutto tutti i simboli del capo bastone che penso conosciate ovvero le classiche croci e quindi abbiamo fatto rif complete oh yeah oh yeah sto switchando con un pazzo si ho notato ora lo faccio anche io sembra che ti stai fumando una pipa come fai tu di farlo perchè? perchè tu hai la motosebia e quindi quando la apri in mano la tieni in mano esce il fumo e quindi sembra che ti stai fumando una pipa rifallo vediamo no no è bellissimo forse però partiamo ora che abbiamo perso un po' di tempo vabbè da poco dobbiamo combattere i 3 tank lo sai quindi facciamoceli una alla volta non partiamo compulsivi su tutti e 3 stai calmo e andiamo forza forza oh yeah se trovo uno sniper faccio voglio fare il 360 lo so l'ho visto l'ho visto cambia la cosa si andiamo a andiamo a andiamo a accendere il primo rigeneratore là in mezzo 360 fail del 360 lo zombie è esploso ti prepari per il sacrificio tringeriamoci qui dentro lo sniper qui tu sapi che il pompone che tu se tiene pregutose para la rapica No dove sei Ben Oh Gio Ah Cosa 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 Ok è a posto Ok andiamo al secondo 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 qui Lo faccio per tirare io Prepariamoci, trinceriamoci qua dentro L'ho presa io la catana Ho preso qui il carno Giochi Ma prendi il tank con la catana Giochi avviso Forza sblochiamo il trofeo Prepariamoci Bene è che non sono spostato E' sopra da frente no E' giù è giù Ah ma il tank era fuito pensavo che era morto Andiamo al prossimo L'ultimo generatore Ok ok L'ultimo è qui Ok 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 Tutti sull'ultimo generatore, forse. Poi vi dico io il posto per camperarcelo. Seguimi, seguimi, seguimi. Sì, dentro questa casa. Una catana al piano di sopra. Gravin' a Pipebomb. Ok. Redu. Oh! 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 e muori e muori su un borg da tutti Reiz preparate a scendere giù ok Reiz preparate a scendere scendi giù e preparate a correre per andare sul generatore vai al generatore forza vai 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 scendi giù e sbagli corri per il canale per il canale forza di qui o capito vado io quindi ragazzi io mi sono sacrificato per il bene di tutto il resto per il bene di Reiz e quindi questo è sci-fi se li siamo trovati bene davvero una bella mappa è abbastanza difficile e quindi noi vi salutiamo e a presto allora ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti